Il momento certamente non è facile, anche per me è stata una sorpresa, ho parlato a volte con il grasso, ma ovviamente non ho un rapporto tale da poter avanzare prima e cose del genere, quindi anche per me è stata una sorpresa. Il momento è delicato e delicato soprattutto perché siamo ormai molto vicini alle elezioni. Però purtroppo credo che anche tutti i richiami a stare uniti possono funzionare, ma d'altro canto io ritorno a quello che obiettivamente io dico da tanto tempo, è il momento che ognuno affronti le elezioni con la sua proposta, che parli di contenuto e con questa legge elettorale poi bisognerà sedersi e cercare di trovare un equilibrio anche dopo. Non sarebbe meglio stare tutti assieme, ma vedo che no, obiettivamente non è facile. Grazie.